Salone internazionale del mobile. Questa rassegna della grande fiera, una delle maggiori anche per superficie impegnata, è una punta di diamante diretta verso il futuro. Accanto alla tradizione c'è il discorso nuovo. Lo scambio di idee, di indirizzi a livello internazionale, l'approfondimento dei temi di base dell'arredamento moderno trovano qui la sede più adatta.